Ah sì, veramente? Ok, arrivo. Non so, come ti viene? Non so, come ti vieni? Punta questo coso addosso. Così può andare? Por favor! Così può andare? Non so. Più o meno. I piedi non li vedo. Secondo me non la uso io, sta scena, però... Ma se invece gliela vicini alla faccia, il cielo per un colpo? Se gliela fai a grido un po' di più. Eh, come facciamo? Eh, glielo appoggi, glielo appoggi. Eh, glielo appoggi, glielo appoggi. Sì, vabbè, anche sempre, magari gli occhi non toccare, perché poi non potremmo andare. Arriverò come un vostro. Che trucco hai. Ma no, non c'è niente di che. Dove li ha? Perché non devo bagliarli più, ma è bello. No, vabbè, no, ormai è la temperatura, ormai devi sortire. Senti, io mi sentiremo l'impasto. E se scena raccrabbucciata. Però non va bene qua. E il pane... Beh, almeno lì ti ha versato l'acqua da vostro. Eh, però... Ma non lo mi sapevo. Ma ho abbastanza impressione. Questa roba, sembri morci. Voglio morire. Questa è già morire. Stiamo prendendo una mano sulla macchina. Uccide No, spetta Così? Così? Bisogna eliminare queste piede Te respira Te respiri? Ok, allora facciamola qua Ma con tutto il secchio Come si sta staccando? Allora, ci stoppiamo a un certo punto Tu ti sposti? Ok Allora cominciamo dal tetto Allora forse è meglio il mestolo Per la faccia Per la faccia, sennò gli arrivano a badillà Usiamo quella caratta Aspetta, aspetta Scusate Calma Ok, ok Tenete un po' più giù questo lato Ok Vai Vai Un po' freddo, eh? Scrivi in un'altra Grazie a tutti Gira pure la testa, prendi aria. Ok, vai. Si può recuperare. Secondo me io non ho schifo. Ok. Tu stai fermo è Salvatore che non ho finito. Ok, vai, vai. Fermo è. Ok, una cosa. Non vedo niente. Mi sa che è un po' troppo denso. Non si vede proprio niente. Facciamo un po' di movimenti. Sembra un horror. No, era esattamente quello che volevo evitare. La tante che si provocava sono i piedi da questa posizione. Sembra i piedi che sconda un lago di sale. È normale. Noi. 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 Noi.